Siamo a Interpac 2023 con Davide Morten, direttore commerciale e marketing di Robotech Italia. Robotech si presenta a Interpac al motto di è facile, serve fare solo la cosa giusta. Quale messaggio sta dietro a questa comunicazione? Il tema caldo di questo momento è naturalmente la sostenibilità ambientale e l'attenzione all'ambiente. Basta guardare quante aziende espositrici utilizzano questi termini nei loro messaggi di comunicazione. Nonostante sia un periodo particolarmente complesso dal punto di vista delle sfide che riguardano le materie prime, l'approvvigionamento dei materiali, per quanto riguarda l'incollaggio è possibile risparmiare e prestare maggiore attenzione all'ambiente. Quello che facciamo, quello che c'è nascosto dietro al nostro messaggio, che poi andremo a spiegare, è proprio capire come fare. Siamo in grado di aiutare i nostri clienti a ottimizzare le proprie applicazioni dicendo esattamente dove posizionare le leve. Ecco come fare la cosa giusta. In fiera Robotech lancia Green Saver. Ci racconti quali sono i presupposti alla base di questo nuovo servizio e quali gli obiettivi? La parola Green Saver ha un significato molto importante per noi. Diciamo che il termine Green oggi è forse fin troppo inflazionato, ma fortunatamente per quanto riguarda Robotech il verde non è solo da sempre il nostro colore aziendale, ma è proprio alla base della nostra filosofia progettuale. Oggi con Green Saver noi vogliamo dare ai nostri clienti la possibilità di ottimizzare l'utilizzo delle proprie risorse, sia di carattere elettrico, delle risorse in termini di aria compressa, di consumo di adesivo, ma anche della protezione presso le risorse umane, che sono il capitale più importante di un'azienda, per riuscire a ottimizzare realmente la propria produttività. Come lo facciamo? Perché tutti dicono che sono attenti a questi temi. Noi cerchiamo in qualche modo di aiutare i nostri clienti con dati e fatti. Abbiamo messo a punto un protocollo di ispezione in 8 punti specifici che tramite un assessment preciso sulla linea di produzione fatto dai nostri tecnico-commerciali assieme ai clienti consentono di individuare le azioni puntuali e specifiche dove andare a lavorare per ottimizzare i processi. Come poi lo facciamo? Dopo aver individuato le azioni, tramite ottimizzazioni delle nostre applicazioni, ma anche tramite prodotti innovativi e particolari che consentono ai nostri clienti di ottimizzare. Diciamo che non abbiamo paura di dirlo, è sempre tema di smentite, quando si parla di green nel settore dell'incollaggio, Robotech è veramente l'unica risposta. Oltre alle già collaudate pistole applicatrici Speedstar Compact e Volta e al fusore intelligente della gamma Vision, in fiera state presentando un nuovo fusore che definite piccolo, semplice e affidabile. Ce ne parli? Certo, in realtà più che un solo fusore presentiamo una gamma completa di applicazioni che noi definiamo Easy Line che è composta da un fusore che si chiama Easy, da una nuova gamma di tubi che si chiamano Rio e da una pistola molto particolare che si chiama Twist. Questi prodotti che vengono appunto denominati, identificati con la parola Easy, hanno la caratteristica di essere semplici da acquistare, semplici da utilizzare, semplici da gestire e da manutenere. Quindi veramente la semplicità a tutto tondo. Non è una gamma che va a sostituire qualcosa di già presente nella nostra range di produzione, ma è qualcosa di aggiuntivo che va a coprire una fascia di prodotto, di applicazioni, di clientela che fino a ieri non poteva magari godere dei vantaggi delle nostre applicazioni tecnologiche in quella determinata fascia di mercato. Oggi andiamo a coprire anche questo. Riusciamo quindi a consentire a tutti di utilizzare le tecnologie e la fidabilità Robotech coprendo a 360 gradi il panorama di incollaggio di tutte le applicazioni e di tutti i clienti. Siamo felicissimi di essere di nuovo a Interpac dal vivo. È un evento importantissimo per tutti quanti noi, ma naturalmente la nostra attività non finisce qua. Per tutti coloro che sono realmente interessati a sapere come ottimizzare le proprie produzioni, le proprie tecnologie di incollaggio, vi invito a continuare a seguire tutti i nostri canali social, a dare un'occhiata al nostro sito perché il green nell'incolaggio è Robotech. Grazie.